Matilde Naddeo, attaccante De Gea l'Alba Volle di B2. Ciao Matilde, dopo una breve pausa per le vacanze natalizie rinizia il campionato. Come avete affrontato questo periodo? Ciao, adesso si, ricominciamo dopo una breve pausa, ma abbiamo comunque mantenuto i nostri allenamenti. Ci siamo impegnate a gestirla nel modo migliore per non fare troppa pausa. E adesso rincominciamo, è già da una settimana che abbiamo rincominciato il nostro ritmo pieno negli allenamenti e sabato ci aspetta la prima di campionato. Sabato alle ore 18 sarete in casa di Chieri in una partita molto impegnativa. Oltretutto insieme alla tua compagna Lori sei un'ex della sfida, come vieni questa gara? Sì, sabato giochiamo contro le mie ex compagne. Ho un po' di tensione per questa partita perché torno a un posto a me abbastanza caro essendo che ho passato i miei ultimi due anni lì, però sono molto felice anche di tornare in quella palestra e abbastanza tranquilla di giocare con le mie compagne questa partita. Allora, grazie mille e bocca al lupo per questa partita. Grazie mille, crepi. Grazie mille.